Il 2017 è l'anno di Let's Play, la nuova campagna di comunicazione dei centri Cleppier. Un nuovo modo di comunicare, impertinente, colorato e fantasioso, che rappresenta perfettamente il posizionamento retail-tainment dei nostri centri. Con Let's Play lo shopping è un gioco pieno di sfumature. Il cliente, con le sue preferenze e aspettative, è al centro di una storia che prende vita attraverso 45 visual. E ogni gioco, si sa, ha le proprie regole. Attraenti, avventurosi, creativi e entusiasti. Chiunque potrà divertirsi come vuole, trasformando i centri in veri e propri luoghi di incontro e svago. Basata sull'approccio socialista e nindicletier, la campagna sviluppa al meglio la promessa Let's Play, sottolineando l'anima divertente e glamour dei centri. Prodotta in tre settimane di shooting, con 20 modelli per un totale di 71 visual e 15 GIF, Let's Play sarà lanciata in tutta Europa e in 14 paesi, coinvolgendo 120 centri commerciali. Lo shopping è un gioco, un gioco divertente. Let's Play!